La prima partita, un esordio, che sensazioni hai avuto? Sicuramente è stato molto bello esordire oggi con Napoli, anche perché c'era le divisioni, il campo, lo stadio, così. E soprattutto ci teniamo molto, anche perché sono 93. Ringrazio il mister per la possibilità, anche per chi ha giocato meno le prime due partite, di esprimermi al meglio. Speravo di chiudere in bellezza questa giornata con un gol, anche se non mi sono mangiato un paio. Però speriamo che ci sia spazio prossimamente nelle altre partite. Te che fai parte di questo gruppo e senti gli umori dei compagni, avete coscienza della propria forza? Vi state rendendo conto che potete andare avanti oppure avete dei dubbi? Com'è l'impatto? La forza di questa squadra è il gruppo, perché comunque è un gruppo sano, un gruppo valido, così, che può andare avanti nel bereggio, perché ci sono anche giocatori validi, tecnicamente, anche e soprattutto sotto l'aspetto fisico. Poi anche perché in Serie D è un gioco diverso da una primavera e questo può essere a nostro favore. Grazie.